Cittadini del mondo. Bentrovati. Oggi parleremo di ciò che il popolo deve conoscere, per liberarsi dall'oppressione della finanza internazionale. Ce lo spiega Mauro Scardovelli. Ma chi è Mauro Scardovelli. Ha seguito corsi di formazione in terapia sistemica, strategica, psicosintesi, approccio rogersiano, bioenergetica, corenergetica, analisi transazionale, PNL e ipnosi erigioniana. È stato professore presso l'Università degli Studi di Genova, e docente di musicoterapia al CEP di Assisi. Ha creato un modello di musicoterapia e PNL, dialogo sonoro, al quale si ispirano varie scuole di musicoterapia in Italia. Nel 1998 fonda l'Associazione Aleph Umanistica Biodinamica, scuola di crescita personale, ente di formazione e counseling che fa da ponte tra psicologia ed economia, ponendo al centro del suo fondamento, lo studio della psiche umana, individuale e collettiva, e di come quest'ultima sia plasmata dal sistema economico che la domina e sovrasta. Dopo questo preambolo vi auguro una buona visione. Allora, cari amici, cari ascoltatori, vi ripeto ancora una volta, in modo sempre più sintetico, qualcosa che tutto il popolo italiano dovrebbe conoscere e tutti i popoli del mondo dovrebbero conoscere per liberarsi dall'oppressione e dal dominio della finanza internazionale che oggi sta distruggendo il pianeta. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che la finanza non nasce nel nulla, ma nasce in uno certo tipo di uomo, l'uomo economicus, l'uomo che bada solo i suoi interessi, che è una visione completamente distorta dell'uomo. Naturalmente l'uomo non è egoista, non è centrato su di sé, non è antisociale, ma è per natura socievole. Guardate questi due simboli, ego, anima. Ego significa ricerca del potere. L'uomo antisocievole, anticomunitario cerca il potere. Non è in grado di amare, non sa amare e quindi cerca il potere come compensazione. Quindi dipende dal potere, come qualcuno dipende dalle sigarette, qualcun altro dipende dal cibo. È una forma di dipendenza, cioè una forma di patologia. Questa. Questa invece è la forma sana di essere umano. L'essere che è capace di amare, cioè una naturale capacità di amare nell'essere umano che va liberata da ogni forma di ingiustizia e oppressione. Nella nostra Costituzione si parla di pieno sviluppo della persona umana per indicare questa qualità. Guardate quest'altro grafico. Qui abbiamo simboli che conoscete tutti. Il dollaro, l'euro e qui sotto abbiamo la svastica. E uno può dirsi in che modo euro, dollaro e svastica sono uniti tra loro. Vabbè basta che vi leggiate un testo come questo di Giulietto Chiesa, ne sono tanti altri, che spiegano il rapporto che c'era tra Hitler e la finanza americana, le grandi multinazionali che hanno finanziato appunto Hitler, l'ascesa, fino all'entrata in guerra. Due nomi, Ford, Texaco, tra i tanti. Per cui gli americani giovani sono venuti a combattere nella seconda guerra mondiale contro un nemico, Hitler, che era stato aiutato dalla finanza americana. Pensate se queste persone lo sapessero, quando erano in guerra, sapessero, avessero saputo che erano mandati lì a morire perché in patria li avevano traditi, carne da macello, i giovani. Terribile, no? Ok, top. Se vogliamo, in senso grande, potremmo vedere che questo corrisponde a questo, è l'ego attuale, è finanza, euro, sistema della finanza multinazionale, da una parte costituzione italiana dall'altra. La costituzione è pieno sviluppo della persona umana e qui in piena capacità di amare. Invece la finanza internazionale è ricerca del potere dominio. È chiaro che se il popolo conoscesse la differenza tra questo e questo e si dovesse fare una votazione, 99,9% degli italiani voterebbe per la Costituzione e non certo per l'infamia della finanza internazionale. perché il suo nucleo è qua. Durante il periodo finita la seconda guerra mondiale, furono mandati nei Stati Uniti 20.000 scienziati nazisti, i quali diventarono il nucleo dei servizi segreti americani e della finanza americana. Quindi ci troviamo di fronte a qualcosa che pochissimi sanno, ma basterebbe avere una tv che li trasmettesse per una settimana e queste cose sanno tutti. Allora, com'è che invece il popolo crede ancora alle menzogne di questo uno per cento, uno per mille? Ma perché loro possiedono tutta l'informazione mediatica, quindi tutti i giorni fanno una continua propaganda e infatti basta aprire prima pagina radio 3 al mattino, qui sentite per un'ora e mezza, parlare di questi temi e si dà per scontato che il potere della finanza, cioè dell'oppressione dell'uomo sull'uomo, sia ineliminabile, è un fatto di natura e questo fatto, da loro chiamato di natura, in realtà ci fa ammalare tutti, non solo di coronavirus, ma ci fa ammalare di fegato, ci fa ammalare di cuore, è un agente virale, il peggiore che esista oggi, che distrugge l'umanità e l'ambiente. La propaganda mediatica è chiaro che dovrebbe essere contrastata da una contro propaganda, una contro rassegna, una rassegna libera di stampa, però questa rassegna libera ha difficoltà, le tv libere hanno difficoltà perché non hanno mezzi, qui ci sono infiniti miliardi per finanziare la propaganda mediatica e qui c'è niente, c'è pochissimo, qualche donazione che arriva ogni tanto, ma il potere di questa parte è minimo dal punto di vista della forza, la propria forza bruta, gli altri sono l'esercito americano, noi che facciamo, svolgiamo questa attività di controinformazione, siamo una canova bucata. La verità può essere nascosta per sempre? No, prima o poi la verità emerge, viene smascherata ed è quello che sta succedendo adesso, il popolo italiano si sta risvegliando, ha ancora idee molto confuse, ma si sta risvegliando al fatto che la finanza internazionale è un problema, che lo spread è un problema, che il debito pubblico è un problema. Bene, questi sono fasulli come problemi, perché se noi applicassimo la nostra Costituzione, questi problemi semplicemente non esisterebbe, non esisterebbe il debito pubblico, non esisterebbe lo spread, non esisterebbe la minaccia dei mercati, perché cosa sono i mercati? Sono il potere usuraio, sono l'usurocrazia, cioè sono il potere di coloro che anziché lavorare sfruttano il lavoro degli altri, quindi gli strozzini, sono persone fortemente malate, che appunto non avendo capacità di amare, perché le persone malate, nevrotiche, psicotiche non ce l'hanno, che fanno questi loro giochini, ma il popolo si stanno risvegliando. Questo fatto dovrebbe risvegliare anche gli intellettuali, gli intellettuali che, se hanno capito quello che sto dicendo, perché possano avere una funzione di aiuto al popolo, devono stare qua, cioè qui vuol dire che si devono unire insieme con una sola voce a esprimere pochi concetti. Quello che ho detto prima è sufficiente sapere che la finanza non è un mostro invincibile, ma è vincibilissima, non è vincibile se il popolo è anestetizzato e obnubilato dalla propaganda. A chi è che può fare una contropropaganda? Ma solo gli intellettuali a cui il popolo attribuisce fiducia. Cosa dovrebbero dire questi intellettuali? Dovrebbero dire che adesso come adesso il nostro governo dovrebbe fare una cosa semplicissima, emettere moneta non a debito, non indebitarsi più. È possibile farlo? Sì, è possibile e questi stessi esperti intellettuali hanno mostrato tante vie con cui è possibile mettere moneta non a debito. Se 2, 3, 4 milioni all'interno del popolo italiano vengono a sapere questa cosa, fra un po' non saranno più 4, saranno 10 milioni, poi 15, dopodiché non vedremo mai più un governo come questo, che non è amico del popolo, ma è amico della finanza, cioè amico dei nemici del popolo italiano. Buona notizia, si è finalmente costituito un comitato di liberazione costituzionale, formato da persone che si sono spese in tutti questi anni per aiutare il popolo, non per il proprio interesse personale, ma per favorire nel popolo consapevolezza e quindi la capacità di prendere le decisioni sane che vanno prese. In primo luogo di attuare la Costituzione italiana che contiene tutte le soluzioni di cui abbiamo bisogno, per risanare la sanità, risanare la scuola, risanare le pensioni, risanare il lavoro. Tutti i settori che interessano al popolo dentro la Costituzione sono previsti e c'è semplicemente da applicarla alla Costituzione, ma la Costituzione non è conosciuta, è svalutata ovviamente dal modello neoliberista che la definisce una Costituzione socialista superata che anzi rischia di creare guerre tra i popoli. Ricordiamoci che la capacità di mentire del potere mediatico è straordinaria. Quindi altrettanto straordinaria deve essere l'altra forza, la forza di coesione tra persone oneste, le quali si pongono come obiettivo in primo luogo riunire un gruppo di intellettuali, economisti, esperti di finanza, giuristi, i quali si esprimono con una sola voce in grado di dare sicurezza al popolo che si può affidare a questa voce perché sa che chi parla è onesto, è leale, è leale ed è competente. Questo passaggio io mi auguro che al più presto venga fatto e quindi richiamo gli esperti che ci stanno seguendo veramente a superare ogni loro piccolo grande divisione per amore del popolo. Non possiamo più permetterci queste piccole divisioni, queste piccole distinguo, ma io di qua, ma io di là. Una sola voce, le cose essenziali. C'è la moneta a debito, c'è la moneta non a debito. Quella non a debito è la moneta costituzionale, non crea debito nei confronti delle banche private, l'altra crea debito nei confronti delle banche private. Oggi la politica chi la fa? Non la fa il Parlamento, eletto dal popolo, la fanno le banche private. Questo è intollerabile e questo porta alla disgregazione della società, porta, vedete questo movimento di disgregazione dell'intelletto separato dal cuore maschile, separato dal femminile, che ha conseguenze catastrofiche sulle nostre vite e sullo stesso ambiente. Con questo vi saluto e fate vedere questo video, diffondetelo il più possibile. Presto ne faremo degli altri. Ogni giorno noi contattiamo una decina, ventina migliaia di persone durante i nostri incontri. Queste persone ci stanno incoraggiando, ci stanno avvicinando a noi moltissime associazioni, queste associazioni ci chiedono come aiutarci e il modo di aiutarci è diffondere questi materiali che noi stiamo facendo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per quello che già avete in mente di fare, le promesse che ci avete fatto e che manterrete e diffondete il più possibile. Questo è il più grande aiuto che potete dare al popolo italiano, allo spirito del popolo italiano che si è espresso nella Costituzione. Ok, saluto a tutti.